Genova è tappezzata di manifesti e locandine dell'Alemante Festival, ma non basta, c'è ancora qualcuno che non lo sa. Lei conosce l'Alemante Festival? No. No, non lo conosco. Non so cos'è. È necessaria un'operazione di marketing mirata. Tutti devono essere a conoscenza di questo evento. Dobbiamo battere a tappeto tutta la città. Porta, porta, marciapiedi per marciapiedi. Allora, il primo è Abamo Alessandro. C'è l'indirizzo. Andiamo. Sì? Sì, buonasera. Sono Mauro Casciari, delle Iene, ma in questo caso sto girando tutta Genova per invitare tutti i genovesi alla fascia di rispetto di Pra per l'Alemante Festival. Grazie. Perfetto, ci sarà? Sì. Grazie. Arrivederci. Noi ci siamo domani. Già sapete tutto. Tenetemi un po'. Ve lo teniamo. Allora, questa viene, quest'altra viene. Ciao, vieni, vieni domani sera all'Alemante Festival. Volentierissimo. Smettetela di picchiarvi, domani sera invece di picchiarvi venite all'Alemante Festival. A che ora? Alle 20. Alle 20. Ci sono tutti questi qua, io sono l'unico che non fa ridere, pensi, quindi volevo invitare anche lei. Sì, va bene. Buonasera, scusate la disturbo, volevo invitarla al Festival Alemante. Non posso, mi dice già, cioè, ma... Va bene, devo lavorare. Allora spargi la voce. Lo farò. Che devi dire? Di andare a Pra. Venite domani sera con lo scooter e così trovate parcheggio al fascia di rispetto di Pra. Assolutamente sì. Poi facciamo il controllo nel pubblico, chi non c'è, veniamo a casa. Ci siamo, ci siamo, veniamo. Sì, sì, è già l'undicesimo anno. La spezziamo domani sera per l'Alemante Festival, la pubblicità, la fascia di rispetto di Pra, domani, vada se no si cazzano. Sì, veniamo, lo spezziamo. Ma si paga poco? Non si paga, non si paga. Ingresso gratuito ma oblazione volontaria. Musica, solidarietà e beneficenza hanno regalato in 11 anni un sacco di roba agli ospedali della città, quest'anno al reparto di oncologia pediatrica del Gaslini. Bene, ci sarò. Allora, ha capito? Si tratta praticamente di un kit multimediale per lo studio di cellule con sofisticati microscopi utilizzati dall'associazione italiana Lotta al Neuroblastoma nel reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale Gaslini qui di Genova. In Genova teniamo uno dei migliori ospedali per i bambini dell'Italia. Tu le monta la fascia di rispetto di Pra, sei come siete, allegri? Ok, vengono anche i francesi, capiranno niente, però vengono. Ma posso portare anche la mia mole? Può portare chi vuole. E io sto invitando tutti i genovesi, ma soprattutto le genovesi. Stiamo girando tutta Genova per ricordarvi che c'è l'Alemante Festival. C'è la scena del partito, aspetta che busso. Salve! Salve! Buonasera! Ma domani sera verrete all'Alemante Festival? Senza dubbio! Ah, sì, sì, vengiamo! Mentre aspettate l'autobus, scusatemi, volevo solo ricordarvi che è l'Alemante Festival, questa sera la fascia di rispetto di Pra. Ma stasera c'è l'Alemante Festival? Sì, stasera! Ce l'ho anche scritto dietro, guarda. Wow! Grandi! Putta Genova! Putta Genova! Ragazzi, siamo arrivati all'ultima, Zvenova e Caterina. Guardi, se non viene sbatto il portone, eh! Ma ecco il resoconto della nostra missione. Abbiamo avvisato 601.453 genovesi. 325.632 li abbiamo trovati a casa. 275.821 per strada. 147.555 hanno promesso di venire qui questa sera. 258.974 non potevano. Gli altri erano indecisi. E 403 mi hanno detto vai via Belinone. Che credo sia un complimento. Yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Allora! Grazie a tutti.